Bene a tutti ragazzi bentornati sul canale di GeneticDinea Continuiamo con il secondo Avevamo finito il primo capitolo Di appunto di Devil Within Continuiamo Quindi con il capitolo 2 Vediamo un po' se il mio ginocchio Si è un po' ripreso Caricamento, capitolo 2 Quel che rimane Bene Dove, dove mi portate? Dove Perché mi portate qui? E' un po' tutto confuso Dove? Cazzo Eh Scusate Non potreste riadrezzarmi il ginocchio almeno? Oh cazzo Eh no Così Così non è giusto No ma così non è giusto Cioè io sono legato Eh No No Ok Cosa sono dentro una specie di cella? C'è nessuno? Vabbè comunque Vediamo un po' Allora Rienvenuti i cadaveri Cadaveri trovati vicino al lago La causa del decesso resta sconosciuta Nel villaggio di Heligreever Sono stati ritrovati circa 10 cadaveri Eh la cazzo Tutti mutilati Molti abitanti Mancano ancora l'appello Oh mio dio Mio dio Mio dio Va bene E Ok posso prendere quell'altra cosa? Tipo Tipo questo? No Ok un po' di bottigliette Ok E se vado tipo il gabinetto a lavarmi? No eh Cos'è? Che cazzo ci fa quella roba nel cesso? Ma che schifo Bottigliette nel cesso Va bene Ok Va bene Oh Oh cazzo Scusi Siamo svegli Sì 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 Come stanno tutti? La città? Di che cosa sta parlando? Al momento C'è soltanto lei qui Ma come? Vabbè Ma mi perdoni E tutto quello che è successo fuori Posso dare un'occhiata? Corre lui Ehi C'è nessuno? Piano pianino Piano pianino Ma che visuale strana Ok lo specchio non mi riflette Bene E' una terza persona Alquanto strana Ok Non posso fare Ok posso Prendere Che cosa sta succedendo qui? Ah quindi Qui c'è nessuno Siccome vedete qua è tutto È tutto abbastanza bianco e nero Lei è qui e a casa sua Sono stato ricoverato Temo di non poter rispondere Ma come? Prego Firmi qui Se non firma qui Ah Praticamente è un Salvataggio Sì vabbè io direi di salvarlo su un nuovo slot Poi Poi vedremo eh Non c'è modo di proteggere i suoi ricordi Di qua prego Va Bene Bene Odore di ospedale Ma è intelligente almeno Ok Io spero solo una cosa ragazzi Che non mi arriva al tipo No 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 Io non entro lì dentro Che cosa? Uno scherzo Che cazzo Devo Devo Va tutto bene Sì Si calmi Sì Prego Si sieda Che mi fa una lap dance? Uno spogliarello? Lì c'è pure il Il palo Con delle flevo attaccate Eh no 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 Questo non è uno spogliarello Il gel verde può essere usato per migliorare i parametri Di ogni abilità Ok potremmo Wow Ecco fatto Visto? Ora va meglio Oh mio occhio Stai impazzendo Cosa glielo fa pensare? Cazzo Io aspetterò Eh aspetta Ah ma era tipo 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 Un 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 sogno Tipo 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 Oh Diablo sta succedendo Dove sono Questo cos'è? Oh Guardate che figata Bella minchia Doppia Puntura Siringa La providenza La providenza Del medicinale Continua Di questa siringa Da viaggio Poi Dove resta Direttamente La salute Oh Come si usa? Come si usa? Come si usa? Premi Godiez Che roba Figata Equipaggia La siringa Tracchete Oh Una bella dose Eh Cazzo Che figata Bene Mi piace Questo qua Quindi vuol dire Che non devo Ma non so Che cazzo Sono queste cose Ma vabbè Comunque Vediamo un po' Che qua Praticamente Ma non posso Ok Esploriamo un po' La zona Per vedere Se magari Riusciamo a trovare I nostri Bislacchi Amici Che cazzo Sono foglie Mi sono cagato Cos'era 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 Voilà Vabbè E continua a sbagliare Ok C'è qualcuno C'è qualcuno C'è qualcuno Cazzo Oh Dici qualcosa Attacchi nemici Corpo a corpo Con Y Ok Ok C'è io non vedo Un cazzo Non so bene Cosa devo fare Però Io resterei qui Seguiamo Merda Seguiamo La strada Oh cazzo Ecco Abbiamo anche una torcia Fantastico E quelli? Eh no Che cazzo Quello Quello È cattivo Merda Merda Eh ma sei un idiota Eh adesso questo salva Perché Verrò ucciso Brutalmente Dall'amico Qua dentro Qua che cazzo C'è Qua fa tutto Filmato No 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 Stai zitto Oh cazzo Eh no 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 Cazzo Non vedo La merda Oh la mia Eh Ok la mira È un po' Strana Nel senso Che non è che Sono riuscito A mirarlo Subito Anche perché Si è avvicinato Abbastanza In fretta Non so che cazzo Ha fatto questo Ma che schifo Cioè Vabbè Ok Ci pigliamo Le pastiche Ok Molto buono Questo povero Cristo è Perché Dove entrare in questa grotta Per forza Per usare la lanterna Ok Bene Male Male Ehi Volevi avvisarmi di questo Tu sei Leslie Vero Sono un poliziotto Forse posso aiutarti Aiutarti Merda Come faccio a portarti in un ospedale 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 E questo è impazzito Cazzo Vabbè Io Passo sotto Ah no Passo a distruggerlo Perfetto Ma figo Oh oh Lo fa da solo oppure Oggetto ottenuto Pezzi di trappola ottenuti Pezzi di trappola Servono a preparare dardi Per la balestra Agonia Ok Va bene E Dove è l'inventario? Ok Qua c'ho la pistola Revolver Caricatore Ma che cazzo Vabbè Ah perfetto Posso selezionare Il Menu Veloce Ma come Come si ricarica la pistola? Vabbè Amico Che cos'è O la stamina Addirittura Se devo correre Vuol dire che qua C'è qualcosa Che non deve Ma che cazzo Ok Che dite Li facciamo Un bel focarello? Un bel focarello Tracchete Non ho capito Il motivo Di 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 Questa Violenza Qua Oh 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 Tracchete Ho trovato Un altro Eh ragazzi Non so voi Ma Io qua Credo che devo andare Dentro in quella casetta Dite che posso Entrare qui Ehi Oh merda Oh oh Che Che succede? Oh Ma che cazzo Vabbè Qui c'è anche Un diario Diario di Sebastian Vabbè Questi qua Non me le lego Le tengo qua Voi vi fate La vostra Se volete Leggerlo Lo mettete in pausa E ciò Ma che cos'è Lo scherzo Ma Ma scusate Ma 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 Non so dire Se l'incubo Fosse quello Di prima O questo Ma Ma Che cosa Le succede? Ma che ne so Ero lì E mo sono qui Fammi vedere Ancora questa roba Ok Aumento il livello massimo Delle barre Ok E Ah posso Danno corpo a corpo Recupero energia Vabbè Ma non posso fare niente Perché comunque Mi saranno più punti E queste sono le abilità Vediamo le armi Cadenza di tiro Beh Forse No Non mi va di sprecare Riserva Aumento la quantità Ah per il momento Non potenzio niente Così tengo i punti Oh ma Senti Bella Voglio uscire Eh ma che cazzo Ehi Vabbè ragazzi Visto che io posso salvare Faccio la mia salvata E vi aspetto I prossimi Gameplay Di The Heavy Di The Heavy Di The Heavy Ciao a tutti Da GeneticDNA Ciao a tutti